Tre arresti e venti denunce tra Arezzo e Montevarchi, questo il risultato di una settimana intensa di controlli da parte degli uomini della Questura di Arezzo nel quartiere di Saione, in particolare zona in cui viene da tempo dedicata attenzione da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri c'è stata una proficua collaborazione tra le volanti della Questura di Arezzo ed una liquota di rinforzo arrivata dal reparto prevenzione e crimini della Toscana contro in particolare lo spaccio di droga. Solo in questa settimana gli agenti hanno proceduto a tre arresti in flagranza di reato di cui due per furto e uno per spaccio di sostanze stupefacenti e congiuntamente al commissariato di Montevarchi ad oltre 20 denunce a piede libero per diversi reati contro la persona e il patrimonio. Numerose infine le contestazioni di sanzioni amministrative per il consumo di sostanze stupefacenti tra il territorio aretino e quello di Montevarchi.